buongiorno a tutti ragazzi benvenuti al vostro oracolo angelico giornaliero e andiamo a vedere che cosa ci aspetta oggi sono già uscite due carte le lasciamo prendiamo l'ultima no queste sono troppe e intanto io vi ricordo che per iscrivervi ai miei corsi diventare i miei studenti oppure per avere una sessione privata con me vi basta andare sul sito internet e prenotare da soli o in alternativa inviare un email alla mia assistente 10 di denari rovesciato mondo rovesciato cavaliere di bastoni rovesciato tutto rovesciato oggi ma come sempre dico il rovesciato non vuol dire negativo necessariamente però 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 10 di denari rovesciato ci fa parlare di qualcosa ci fa pensare a qualcosa che riguarda il nostro nucleo familiare il nostro ambito familiare oppure quello delle amicizie qualcosa che riguarda i rapporti più stretti che abbiamo le persone che fanno davvero parte della nostra vita del nostro nucleo più intimo qualcosa potrebbe per esempio qualcosa potrebbe non quadrare esattamente all'interno di questo nucleo con le persone che abbiamo più vicine potrebbe esserci qualcosina che non ci convince in realtà il 10 di denari rovesciato è come se non riuscissimo a completare un qualcosa come se non riuscissimo a portare a termine un qualcosa per qualcuno potrebbe trattarsi di difficoltà finanziarie difficoltà economiche o comunque difficoltà nelle quali magari ci troviamo in questo periodo che dovremo risolvere proprio per garantirci la serenità in casa in famiglia ma che per via di mille fattori e per via di cause esterne appunto non riusciamo a non riusciamo a gestire nel modo migliore di tutti ed ecco che questo potrebbe crearci un piccolo fastidio un piccolo scompenso o comunque potrebbe darci quel senso di quel senso che qualcosa non va in realtà però il 10 di denari sia che si tratti di una carta diritta sia che si tratti di una carta rovesciata è comunque un 10 è comunque una carta che parla di una certa completezza che noi abbiamo nella vita quindi sì è vero magari ci sono delle cose che non non vanno bene non ci fanno sentire sicuri e sereni al cento per cento ma questo non significa comunque che le cose vadano male necessariamente anzi a volte si tratta solamente di momenti o si tratta di sfide che dobbiamo attraversare dobbiamo affrontare e dalle quali dobbiamo imparare qualcosa di importante che ci servirà poi in seguito il mondo rovesciato nel frattempo ci parla proprio di questa mancanza di questo completamento però nel quale qualcosina non va e qualcosina non riusciamo a tirarla fuori e infine il cavaliere di bastoni rovesciato descrive la mancanza di energia che noi abbiamo e che noi sentiamo e percepiamo in in questo momento il cavaliere di bastoni rovesciato per qualcuno può rappresentare anche una persona poco affidabile una persona poco affidabile che si avvicina che ci propone qualcosa che magari ci cerca per vari motivi per avere qualcosa da noi ma lo fa con intenzioni poco oneste poco buone ma per tanti altri di voi che state a guardare questo cavaliere di bastoni rovesciato mi dà invece la sensazione di essere la nostra stanchezza il fatto che non non abbiamo input non abbiamo uno sprint non abbiamo l'entusiasmo per fare le cose e va anche bene così perché non necessariamente noi in questo momento dobbiamo avere tutta questa voglia e tutto questo entusiasmo di fare qualcosa magari abbiamo semplicemente bisogno di gestire tutto con calma di aspettare il momento giusto per fare qualcosa o comunque magari molte dinamiche non dipendono direttamente da noi non sono appunto il nostro potere e non essendo il nostro potere noi non possiamo fare gran perché per cambiare la situazione perlomeno non nel momento presente magari l'attesa fa proprio parte del cammino e fa proprio parte del percorso e anche l'attesa ha qualcosa da insegnarci fatto sta che ecco non riusciamo a mettere quell'energia necessaria per far sì che questa carta del mondo si si giri e diventi una carta diritta e che il 10 di denari si giri e che diventi una carta diritta tutto ciò che possiamo dire in questo momento con questo 10 di denari rovesciato è semplicemente che c'è un qualcosa che dobbiamo aggiustare c'è una piccola cosa ci sono delle piccole cose chissà per qualcuno a livello finanziario per altri non sarà a livello finanziario ma sarà su altri piani dimensionali magari il piano relazionale o il piano delle amicizie però ecco c'è questo piccolo qualcosa che oggi sentiremo oggi o nei giorni attorno ad oggi quindi io non credo che queste carte parlino di eventi o di cose che succederanno oggi o nei giorni attorno ad oggi e magari per qualcuno sì ma per la maggior parte di noi ho la sensazione che queste carte parlino di ciò che sentiamo e qui chiedo a voi di scrivere nei commenti che cosa sentite come sempre lo chiedo in particolare alle persone più sensibili quelle che quando si svegliano la mattina hanno questa sensazione che poi si manifesta davvero durante il giorno che realmente poi si realizza si materializza questa sensazione è importante sapere se sentite questa sensazione che manca qualcosa o in alternativa se non si tratta di questo scrivete se invece è qualcuno che si avvicina con cattive intenzioni scrivete se è un cavaliere di bastoni rovesciato quello che viene verso di voi vediamo adesso qual è il consiglio degli angeli per vivere al meglio questa energia vediamo che cosa hanno da dirci nella giornata di oggi vediamo un po che cosa c'è qui sono scappate due carte ma io ne voglio solo una quindi la prendiamo così il sette di terra è appunto il sette di terra che parla proprio di questa energia un po' bassa di questa un po' non è una scontentezza è un sentirsi un po' scoraggiati io credo che qualcuno si senta un po' scoraggiato ed è normale è naturale ma vi assicuro che non è definitivo vi assicuro che questa sensazione sta per cambiare perché in realtà questa è una carta che ci spiega come abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo gestito la situazione qualunque essa sia nel modo migliore quindi anche se abbiamo la sensazione in questo momento di sentirci bloccati di essere un po' in pausa si tratta di una pausa temporanea e le preoccupazioni che abbiamo non sono realmente giustificate perché le cose si aggiusteranno in un modo o nell'altro stanno per aggiustarsi e anzi quello che oggi sembra essere un problema quello che sembra essere qualcosa di negativo potrebbe più avanti rivelarsi invece una grande fortuna perché potrebbe mostrarci come le cose aggiustandosi possono anche mettersi in un modo migliore rispetto a quello che noi speravamo rispetto a quello che noi desideravamo e ci aspettavamo qualunque cosa stiate facendo ragazzi state davvero cercando di dare il massimo di fare il massimo quindi sappiate che gli sforzi vengono sempre premiati se vengono fatti con la giusta intenzione quando voi compiete compite quando voi fate qualcosa quando voi fate qualcosa ciò che conta davvero in termini di karma in termini di energia è l'intenzione con cui fate questo qualcosa e se le intenzioni che voi mettete nelle vostre azioni sono positive propositive e costruttive non potete fare altro a lungo termine che raccogliere i frutti di tutto questo per il resto ragazzi vi invito ad andare sul sito o a inviarmi una email e ci vediamo domani